Lorenzo Seneci, Product Manager Maxel per Radio Group. Abbiamo cominciato il nostro show che toccherà 5 tappe italiane. Prima data a Roma oggi, 16 ottobre. Abbiamo avuto una bella presenza, siamo a metà giornata e già siamo andati oltre le nostre priori aspettative. Per quello che riguarda la gamma laser LCD di Maxel, abbiamo cominciato con l'introduzione di quattro modelli. Si tratta di due famiglie differenti. La famiglia più piccola sono due laser LCD, 5-6000 lumen, si differenziano solo per la luminosità, si chiamano MPV5503 e MPV5603. Due macchine che accettano 4K a 30 Hz e che offrono possibilità di installazione parecchio interessanti anche grazie a un lens shift orizzontale verticale che è di serie manuale su tutte e due le macchine. La famiglia sulla quale puntiamo di più a livello di vendita e di mercato per quello che riguarda l'audio invece è la famiglia della serie V8. MPV8701 e V8801 sono un 7 e un 8000 che si differenziano per la luminosità, per i 1000 lumen appunto, dai 7 agli 8000 lumen. L'8000 lumen in più ha un ingresso SDI. La cosa molto interessante di queste macchine è che offrono di serie un software che si chiama Projector Blending Tool che permette con l'ausilio di una macchina fotografica o della Logitech o della Canon EOS di realizzare layout in blending, in warping, in stacking e in cornering senza l'ausilio di un processore video. Queste macchine montano appunto questo software che è del tutto gratuito. La cosa interessante che abbiamo visto oltre alla possibilità di creazione layout è che c'è la possibilità di schedulare gli interventi di taratura anche da remoto. Una cosa molto interessante di queste macchine che teniamo a sottolineare è che sono le uniche macchine sul mercato che offrono come termine di garanzia o le 20 mila ore di funzionamento o i 5 anni direttamente di garanzia. Speriamo che anche Padova, Bologna, Milano e Palermo rispondano così bene in termini di interventi perché veramente abbiamo accolto molti dealer, siamo molto soddisfatti di questa prima data romana. Insieme a Maxel adesso vi aspettiamo a Bologna il 5 novembre a seguire le altre date saremo presenti oltre noi ovviamente i dedo gruppe insieme ai nostri agenti e ai nostri venditori anche personale Maxel che non vede l'ora di farvi vedere tutto quanto stiamo portando sul mercato italiano con l'i-end di Maxel.